Ho scelto di venire a Nuova Zelanda perché ha sia il mare che le montagne e mi piace molto la cultura e la natura neozelandese. Mi chiamo Tania e vengo dall'Italia. Frequento Kashmir High School a Christchurch. Andare a scuola è molto diverso dall'Italia perché i professori sono molto più rilassati e se hai un problema puoi solo chiedere e ti aiutano. Non è stato troppo difficile trovare amici, sono tutti molto simpatici e non è troppo difficile parlare con persone. Anch'io ho trovato amici anche della Nuova Zelanda, non sono studenti internazionali però sono veramente amici che ho per tutta mia vita. Ho scelto storia dell'arte, auto-education, business studies, health education, spagnolo e drama. La mia materia preferita è drama perché è diversa dalle materie in Italia. Inoltre mi piacciono anche auto-education. Abbiamo fatto viaggi differenti, abbiamo fatto viaggi nelle montagne, siamo andate anche a sciare con auto-education e facciamo molti viaggi. Se la scuola si prende molto cura di me, se ho un problema, se ho domande, le posso andare all'International Office e mi aiutano sempre. L'International Office ha organizzato un viaggio a Queenstown. Sì è bellissimo, sono le montagne, c'è il lago e siamo andati con la gondola lì. Sì era bellissimo, hai visto tutto e anche io ho fatto skydiving e è stato incredibile. Wow, incredible! È un'esperienza che fai solo una volta nella vita. Vivo dieci minuti di autobus dalla mia scuola e con la mia famiglia mi sento come se fossi a casa mia e posso parlare di tutto con loro e sono molto comprensivi. E anche con mia host mom, Colleen, quando arrivo da scuola parlo con lei come era la mia giornata e mi piace molto a fare delle torte con lei. Ho una camera molto grande e bella e mi piace molto. Nel mio tempo libero si vado in giro con i miei amici, andiamo in spiaggia, manchiamo nel centro commerciale o semplicemente andiamo fuori a mangiare qualcosa. Vi raccomando tutti a venire a Kashmir High School, sono tutti molto simpatici, anche in classe è molto divertente. Io penso che ho imparato delle cose che mi serviranno nella tutta mia vita. Ho imparato l'inglese molto bene e avevo la possibilità di conoscere persone provenienti di tutto il paese del mondo.